Ciao ragazzi e benvenuti a questa ricerca di riferimento di Assen con Pecco Bagnani Iniziamo con la ricerca a 300 km per l'ora e rilassiamo al primo giro per turn 1 Nella strada fuori immediatamente rilassiamo la bicicletta Nel terzo giro facciamo turn 2 senza rilassare Nel terzo giro facciamo per entrare la doppia direzione in sia il primo o il secondo Nel terzo giro di direzione per prendere turn 5 in primo giro Nel terzo bisogna rilassare la bicicletta rapidamente per avere una migliore accelerazione Nel terzo giro, restiamo sulla lefta per aprire la prossima curva Nel terzo giro di direzione in 6 per prendere un corno molto rapido Nel terzo giro di direzione immediatamente e rilassiamo al terzo giro per turn 7 Nel terzo giro di direzione per turn 8 Nel terzo giro di direzione per turn 10 e turn 11 Nel terzo giro di direzione per turn 10 e turn 11 Ora siamo arrivati nella ultima parte della traccia con questo veloce giusto per il terzo giro. Ora arriva alla ultima chicane. Molto importante per riuscire al punto giro per evitare il lapo cancellato. E ora finiamo il lapo in 1.29.2.